Oggi parliamo di vuoto. Ad un certo punto, durante il tuo percorso di conquista del nuovo lavoro, quello che aspiri, quello che aneli a realizzare, concretizzare, portare nella tua vita per poter essere libero, libera, di fare quello che ti piace davvero, quindi non essere più ancorata a un lavoro da dipendente o comunque ad un lavoro che in realtà senti pesante, per poter conquistare questo bisogna passare per una fase di vuoto dove da una stanza vecchia, conosciuta e comoda si passa ad un luogo nuovo e in questa fase, vada bene, ci arrivi solamente se stai lavorando bene a livello alchemico, a livello trasformativo perché se non stai veramente lavorando per una reale trasformazione la crisi non la affronti, non stai male, non ti senti confusa. Se stai lavorando male va tutto bene, ma se stai lavorando per una reale trasformazione devi passare per questo vuoto.